Vaccination Day anti-influenzale, domenica 20 dicembre dalle 8.30 alle 13.30. L'Ulsuno Dolomiti attiva una giornata straordinaria di vaccinazione con Drive-In all'ospedale San Martino di Belluno e a Feltre in località peschiera Arex Marangoni. È un andamento incerto l'andamento epidemiologico di influenza quest'anno perché mescolato con il Covid vedremo che evoluzione avrà. Potranno vaccinarsi contro l'influenza gli over 65 ma anche tutte le persone con condizioni di rischio. Sono persone che evidentemente beneficiano della vaccinazione anti-influenzale che ha la capacità di ridurre il rischio di complicanze legate all'influenza. Nel frattempo nel bellunese si continua a registrare un numero molto elevato di positività al Covid in rapporto alla popolazione, circa 200-250 nuovi casi al giorno, simile al resto della regione invece la percentuale di ricoveri ospedalieri. Noi in questo momento certamente a Belluno stiamo individuando casi asintomatici o paucisintomatici, il numero molto più importante rispetto ad altre realtà del Veneto e d'Italia. Infatti eseguiamo circa il doppio dei tamponi molecolari come media giornaliera del Veneto e certamente moltissimi in più rispetto alla media nazionale. Questo grande numero di tamponi molecolari eseguiti consente appunto di aumentare la casistica.